In questo numero del Salus Tg, raggiunto l'accordo sul patto per la salute tra le regioni e il ministro della salute Beatrice Lorenzin. Diabete, 6 miliardi di euro spesi ogni anno in ricoveri pari a 100 euro a italiano. Bimba guarita dall'HIV è di nuovo siero positiva. È stata raggiunta l'intesa sul patto salute 2014-2017. L'accordo sul documento è stato trovato tra il ministro della salute Lorenzin e i governatori delle regioni. È stato un lavoro lunghissimo dopo i costi standard e dopo aver evitato i tagli oggi col patto mettiamo in sicurezza il sistema sanitario per le prossime generazioni, ha affermato il ministro Lorenzin, uscendo dalla conferenza Stato-Regioni. Nel patto abbiamo affrontato il tema del turnover e quindi dell'ingresso del personale. Grazie alla collaborazione del Ministero dell'Economia, pur nell'invarianza di spesa abbiamo potuto inserire strumenti molto più elastici che ci permettono di rispondere al fabbisogno di personale di tutte le regioni, anche quelle in piano di rientro, ha aggiunto il ministro. Una persona con diabete su quattro in Italia viene ricoverata almeno una volta nel corso dell'anno a causa delle complicanze della malattia. I diabetici hanno un rischio doppio di essere ospedalizzati e la loro permanenza in ospedale è mediamente del 20% più lunga. Il diabete è responsabile ogni anno di 12.000 ricoveri in più ogni 100.000 persone. Tutto questo comporta anche un notevole costo per le casse dello Stato. I ricoveri per diabete costano 6 miliardi di euro, 100 euro a ogni cittadino, dai neonati ai centenari. 12 il rapporto sul diabete Italia 2014. Triste sconfitta per la medicina, una bambina siero-positiva che gli scienziati pensavano di avere guarito attraverso un trattamento precoce è stata trovata di nuovo positiva al test per l'HIV. Lo hanno rivelato i recenti esami effettuati sulla piccola di quattro anni, originaria del Mississippi, indicando che la paziente non è più in remissione.